Musica Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali che va in onda tutti i giorni da lunedì al sabato come sempre in diretta alle 7.30 del mattino cominciamo dal Santo del Giorno, oggi la Chiesa Cattolica ricorda la trasfigurazione del Signore il sole è sorto alle 6.01, tramonterà alle 20.27 il tempo anche oggi sarà una bella giornata di sole guardate la nostra webcam che come sempre è disponibile per tutti all'indirizzo occhiolanotizia.it nel banner dedicato all'osservatorio meteorologico dove ci sono anche i dati i dati della temperatura, del vento, delle precipitazioni a quest'ora alle 7.30 sono già 23 gradi per oggi la protezione civile delle Marche prevede cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento, eventi di brezza leggera, il mare sarà poco mosso per la giornata di domani, venerdì 7 agosto, stessa fotografia cielo sereno poco nuvoloso, temperature in lieve aumento, eventi di brezza tesa il mare sarà quasi calmo o poco mosso per la giornata di sabato, 8 agosto, cielo sereno poco nuvoloso temperatura in ulteriore lieve aumento, eventi dai quadranti settentrionali il mare sarà quasi calmo l'indebolimento dell'alta pressione però favorirà dei fenomeni di instabilità per la giornata di domenica 9 e lunedì 10 agosto poi è atteso un nuovo miglioramento a Mercatello sul Metauro ve l'abbiamo fatto vedere ieri sera nel servizio all'interno di Occhio alla Notizia si è tenuto uno spettacolo, uno spettacolo dedicato a Ismaele Lulli il ragazzo di 17 anni ucciso barbaramente da Igli Meta ebbene, ieri, dicevamo, l'altro giorno c'è stato questo spettacolo di Ivan Cottini che è un modello affetto da Sla uno spettacolo molto bello tra l'altro alla quale ha partecipato per la prima volta nella sua prima uscita pubblica anche la mamma di Ismaele la mamma Deborah è questa ragazza possiamo dire, questa signora qui con Ivan vedete sulla sedia a rotelle uno spettacolo molto bello molto toccante e mamma Deborah ha detto Ivan mi ha dato la forza di uscire per la prima volta quando siamo arrivati con le nostre telecamere siamo andati appunto anche noi dietro le quinte per salutare Ivan naturalmente ma per salutare anche la mamma che era lì con lui e ascoltava la storia di Ivan una storia di grande coraggio immaginate un modello un modello come lui ancora nel pieno della giovinezza che a un certo punto scopre di avere questa grande malattia le strade erano due o abbattersi e quindi buttarsi giù oppure tirarsi sulle maniche tirare fuori tutta la grinta tutta la forza e andare avanti e così ha fatto Ivan ascoltando queste parole Ivan ha dato coraggio alla mamma di andare avanti Deborah Lulli è allo spettacolo di Cottini dedicato appunto ad Ismaele una parte dei fondi raccolti a mercatello sul metallo destinati alla famiglia Lulli ringrazio Cottini di tutto se ci fosse stato mio figlio dice la mamma sarebbe stato felice poi il resto del carino di questa mattina invece prosegue pubblica ancora una notizia sulle indagini in corso in particolare si sofferma ancora oggi sul testimone su quella persona che oggi dice di avere un gran senso di colpa un ragazzo di 20 anni di Urbino che aveva rivelato a Igli Metta il tradimento della sua ragazza con Ismaele Lulli e lui dice l'ho fatto per un motivo preciso è stata una ripicca infatti Ismaele aveva parlato male di me in giro in paese allora ho deciso di far sapere al fidanzato di Ambera quindi Igli che lui ne aveva approfittato domani intanto i carabinieri controlleranno di nuovo la Opel Corsa di Igli in particolare il vano motore dove potrebbe aver nascosto la droga che poi vendeva l'indagine della Guardia di Finanza sui necrofori oltre mille salme finiscono nell'inchiesta sono state chiuse sono chiuse le indagini dieci persone indagate al centro il mancato versamento delle vestizioni l'operazione Lazarus così fu chiamata dalla Guardia di Finanza che verte su quattro anni dal 2010 al 2013 le accuse truffa peculato e rivelazione di segreti d'ufficio quando i necrofori rivelavano alle pompe funebri i decessi la difesa comune per il reato di peculato quei soldi percepiti erano solo mance date dai parenti la pagina di Fano invece si occupa di una manifestazione in giro per Fano che fa i conti con la crisi così è a rischio anche la beneficenza solo 300 prenotazioni a tre giorni dall'evento scontro con l'altra festa l'organizzatore dice quello che resta di guadagnato lo doneremo a qualche ente sempre che ci sia appunto il margine per poterlo fare beh sì diciamo che al momento stando a quelli che sono i numeri che pubblica questa mattina la pagina di Fano il resto del Carlino 300 italiani prenotati contro gli 800 dello stesso periodo dell'anno scorso quando poi erano stati circa 2000 i partecipanti effettivi a questa passeggiata degustativa tappe tra i monumenti del centro storico di Fano però Etienne Lucarelli che è l'organizzatore di questo evento bell'evento tra l'altro che è molto bello secondo me solitamente dice il boom delle vendite avviene negli ultimi giorni e quindi sicuramente insomma adesso ci sarà una ripresa dal paese dei balocchi un sorriso per i bambini vittime della guerra il sindaco sarà un cina reporter Rai che ha documentato un reportage nelle zone di un conflitto del mondo sapete che il paese dei balocchi poi per il periodo della manifestazione elegge anche un sindaco proprio del paese dei balocchi quello vero invece quello di Fano che ha ben altro a cui pensare sull'ospedale unico è invitato a tirare fuori l'orgoglio di essere fanese due interrogazioni sulla locazione di muraglia cresce la pressione progetto Fano serve un consiglio comunale urgente dicono tutte le domande poi dei grillini Santorelli e Garbatini in quali termini è la trattativa con Ricci e Ceriscioli questa è la domanda poi i nodi della politica Fanesi o Fulvi la battaglia per la presidenza del consiglio comunale è ancora lunga il gruppo dei quarantenni puntano sul primo ovvero sul giovane Cristian Fanesi ma la seconda quindi Rosetta Fulvi ha dalla sua il criterio dei voti la pagina di Pesaro del Corriere Adriatico erosione petizione rilanciata dai bagnini appello alla regione per le nuove scogliere a Ponente continua la polemica sulla ristorazione in spiaggia Varotti di Confcommercio replica seccamente a Giuliani di Confartigianato sull'abusivismo in piazza causano un incendio sul San Bartolo con una lanterna cinese a fuoco la falesia per 1500 metri quadrati denunciati due 19 anni che avevano lanciato l'oggetto caduto per un colpo di vento 5 milioni dati a ERA sono gli ultimi gli utili scaturiti dalle tariffe di Marche Multiservizi il forum sì al consorzio pubblico poi da Fossombrone evasione recuperati 1 milione e 700 mila euro il sindaco Pelagaggia è soddisfatto nonostante i tagli nessun tributo verrà aumentato la pagina di Fano del Corriere no a muraglia parola di Luca Luca è Luca Ceriscioli presidente della regione fanesi del PD ricorda l'impegno del governatore due interrogazioni in consiglio progetto Fano chiede una convocazione entro ferragosto e 5 stelle controllano i passi del sindaco Seri la politica chiamata ad una risposta unitaria sulle manifestazioni puntiamo su Carnevale Fano dei Ceseri l'assessore Marchegiani promette un cambio di rotta per il 2016 ma l'edizione estiva del Carnevale dice il vice sindaco va ripensata in gir per fan seguendo i sensi del gusto e dell'arte domani l'iniziativa della Proloco attraverso i monumenti con nove tappe per il palato e poi al via anche i quattro cantoni oggi e venerdì specialità gastronomiche che come sempre saranno possibili in vari punti della città da Fano e Valle del Cesano Pergola parte l'esposto alla magistratura riforma dei punti di pronto intervento Pergola ipotizza l'interruzione di pubblico servizio e adesso invece apriamo il messaggero anche qui sulla pagina di Pesaro spiaggia per cani insorgono i bagnini concessione troppo vicina agli stabilimenti di Baia Flaminia venga almeno vietata la balneazione ai quattro zampe quindi ai cani i titolari delle strutture dopo la riunione di ieri sono pronti ad iniziative di protesta o a boicottare la notte delle candele insomma non tutti vogliono questa spiaggia per cani a Pesaro o perlomeno non la vogliono là dove è stata prevista dal comune dicevamo delle lanterne cinesi eccole qui che causano un rogo sul San Bartolo è stata denunciata questa coppia di 19 anni l'ex presidente Acaccia Scarpetti chiede al sindaco di vietare le lampade per la festa di lunedì prossimo alunni al Santa Marta trasferiti a Pesaro studi gli alunni Santa Marta a Pesaro studi e questo è il tentativo che il comune e la provincia stanno facendo per scongiurare le lezioni al pomeriggio dei ragazzi dell'alberghiero asilo per stranieri poliziotti in allarme i viaggi dal Pakistan alla questura di Pesaro insospettiscono i sindacati delle forze dell'ordine non arrivano qui per caso SILP e SIULP i sindacati appunto sono d'accordo una regia dietro al fenomeno e ieri un migrante addormito all'aperto per essere il primo noi siamo per l'accoglienza dice Frega ma ci sono regole da rispettare l'anzi non possiamo prenderli tutti Giovanelli nuovo ruolo nazionale nell'informazione l'ex deputato contrario alla permanenza di Comi alla segreteria e poi sotto Urbino dal 1899 mai così caldo il mese di luglio è da record chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero stop con i disagi al via i corsi i lavori alla scuola Nuti intervento molto atteso il plesso è frequentato da 800 bambini l'operazione più importante riguarda il nuovo ascensore ma sarà migliorata anche la climatizzazione l'assessore Mascarin promette che i cantieri non interferiranno con l'attività didattica altri a settembre al nido di San Lazzaro poi ancora una tartaruga trovata morta in spiaggia una tartaruga di 40 cm si è arenata sulla battigia di Torrette di Fano nelle vicinanze dell'hotel Playa sotto ospedale a Muraglia la protesta è trasversale vedete qui sotto il segretario del PD Fanese Fanesi il capogruppo dice il partito contro l'ipotesi progetto Fano parola al consiglio prima di Ferragosto ed è tutto grazie per aver seguito la nostra segna stampa noi ci vediamo stasera alle 20 e 30 con il nostro OTG Occhio alla Notizia arrivederci a